Ragazzi, ben ritrovati, come state? Buon lunedì mattina, ciao a tutti, dai che martedì, teoria il 25 aprile, c'è un bello stacco in mezzo comunque alla settimana e ricominciamo a prepararci appunto a una nuova partita molto importante, questa volta davvero molto importante, non di campionato ma di Coppa Italia dove inizieremo a tirare, bene o male, una riga definitiva a quella che sarà questa stagione, ma prima di tutto dobbiamo parlare di Juventus-Napoli di questa sconfitta che è arrivata per un gol a zero, io vi invito se non avete ancora fatto a guardarvi il video post partita, ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede ho visto che in tanti non sono stati d'accordo con la mia analisi, in tanti hanno visto praticamente lo stesso tipo di partita io invece ho visto una partita differente, ho visto che in realtà si divide abbastanza a metà l'opinione della tifoseria su questa partita c'è chi considera la solita partita in chi invece ha visto una partita differente, un approccio differente, un Juventus che probabilmente meritava di più io adoro il calcio anche per queste cose, ci sono mille modi di vederla e quindi vorrei cercare di analizzare anche insieme a voi il perché secondo me invece questa partita è stata leggermente differente rispetto alle altre e parto dal voto ad Allegri che per me è un 7 e non so dire da quanto tempo non andavo a dare una sufficienza piena e abbondante all'allenatore della Juventus e questa volta arriva pure durante una sconfitta l'altro giorno leggevo i commenti e qualcuno mi scriveva ma abbiamo passato il turno di Europa League e tra andate e ritorno è dato 4,5 e 5,5 dall'allenatore eppure siamo andati avanti perché? Perché banalmente sono andato a valutare quella che è stata la prestazione della squadra e la Juventus tra andata e ritorno per me non aveva meritato la vittoria, non aveva meritato il passaggio diretto così e lo Sporting aveva sicuramente delle situazioni da recriminare, non mi aveva convinto la Juventus non mi aveva convinto con l'Inter, non mi aveva convinto col Sassuolo, non mi aveva convinto con la Lazio, non mi aveva convinto con l'Ellas questo aprile non mi aveva convinto quasi mai, quasi mai e mi fa ridere ogni tanto perché mi sono letto anche dei commenti che mi dicono eh ma non mica salire sul carro adesso eh, non tornare sul carro di Allegri io ragazzi credo che questo tipo di narrazione abbia rovinato il calcio cioè quando si parla per etichette basta non ci può essere discussione è impossibile creare una discussione io ho già palesato la mia posizione, l'ho già espresso la mia posizione io a fine anno cambiare allenatore possiamo pure arrivare secondi vincere Coppa Italia ed Europa League che io a fine anno cambiare allenatore perché le riflessioni durante l'anno mi hanno portato a fare questa considerazione e da lì non cambi idea, da lì non torni indietro ma questo non significa che se ci sono delle partite che secondo me sono preparate meglio delle altre andrò a dire no, sono comunque preparate male perché io cambierei allenatore perché semplicemente non sarei onesto con me stesso e nemmeno nei vostri confronti perché credo che la cosa bella del mio canale sia proprio questa no? riuscire a parlare di calcio per come lo vedi serenamente io lo so che ci sono tante persone che hanno più gusto a sentire se si parla male di un determinato tesserato o se si parla bene di un altro tesserato perché ci sono simpatie e antipatie io devo cercare sempre di essere coerente e onesto banalmente nelle valutazioni e come spiegavo nel post partita secondo me Allegri questa partita l'ha preparata bene e sono convinto che preparando Juve-Inter dell'andata di Coppa Italia preparando Milan-Juve di San Siro preparando Maccabi-Juve preparando Juve-Monzo-Monza-Juve preparando quante altre ce ne sono state ma banalmente Napoli-Juve dell'andata preparando probabilmente Lazio-Juve preparando Roma-Juve anche se Roma-Juve comunque non era immeritata secondo me quella sconfitta preparando Sassuolo-Juve nello stesso modo in cui è preparato stasera Juventus-Napoli quindi con una squadra anche di un livello diverso davanti perché abbiamo elencato delle squadre se vogliamo togliendo il Milan proprio per fare o l'Inter che comunque sono sul nostro livello e tante volte noi abbiamo subito tantissimo, tantissimo gli avversari e magari ci siamo ritrovati a vincere delle partite che non meritavamo e quante volte l'abbiamo detto ultima non ultima appunto come dicevo lo sport in Lisbonne ha trandato e ritorno come è giusto secondo me sottolineare quando passiamo un turno vinciamo una partita immeritatamente è giusto secondo me sottolineare invece quando perdiamo però secondo me a livello di preparazione è un'altra roba ma attenzione perché qualcuno mi ha detto sì ma la Juve è stata presa pallonate il Napoli aveva il 65-70% di possesso palla hanno fatto 100 passaggi in più di noi ma io mica ho detto che la Juventus ha giocato la partita meglio del Napoli io non ho detto questa cosa qui perché è ovvio che se andiamo a vedere la squadra che è stata padrona del campo beh il Napoli è stato padrone del campo ma banalmente prendo in esame il doppio confronto tra Milano e Napoli è andata e ritorno che c'è stato in Champions League sia l'andata che il ritorno la squadra che ha fatto la partita che è sembrata padrone del campo e che è stata padrone del campo è stato il Napoli la squadra che ha meritato il passaggio del turno è stato il Milan io non ho detto che la Juventus ha giocato una partita spettacolare non ho detto che la Juventus ha fatto calcio e champagne ho detto che la partita è stata preparata bene e venirmi a dire che eh sì però è stata difesa contro piede è stata ripartenza e catenaccio ma ragazzi quante volte quest'anno abbiamo fatto delle partite ripartenza e catenaccio è tutto l'anno che giochiamo catenaccio senza ripartire benvenga ripartenza e catenaccio se difendiamo Bassi e questa cosa non ce la toglie neanche il diavolo benvenga se iniziamo a fare delle ripartenze benvenga se iniziamo a sfruttare gli esterni benvenga se riusciamo ad adattare il modulo alle caratteristiche dei giocatori per fargli fare delle belle prestazioni come comunque vedremo anche nelle valutazioni personali io credo che stasera Allegri sia riuscito a valorizzare determinati giocatori come quasi mai o mai aveva fatto in stagione significa che voglio Allegri in panchina la Juventus l'anno prossimo? no significa che secondo me la Juventus è più forte del Napoli? no significa che la Juventus ha fatto calcio champagne ha giocato bene? no significa però che la partita è stata preparata in un certo modo c'è stato un approccio differente rispetto a tante partite in questa stagione che vi ho elencato prima poi si poteva mettere le partite andate di ritorno con Benfica le partite andate di ritorno con il PSG perché la Champions purtroppo ce l'ha ancora qua sono poi cose che alla fine della stagione muovono i giudizi perché non possono fare altro che muovere i giudizi e credo anche che stasera la Juventus comunque la partita non l'abbia vinta nonostante questa preparazione perché si è sbagliato in tutto l'anno a cercare di arrivare al massimo sforzo col minimo risultato senza cercare di costruire una vera e propria identità di squadra in fase di possesso palla perché questa la Juve non ce l'ha e anche stasera abbiamo visto che determinate ripartenze si infrangevano proprio di fronte al fatto che non siamo abituati a fare certe cose però almeno stasera c'era la volontà di spiegare al calciatore che doveva fare quella roba lì però non puoi arrivare il 24 di aprire questa roba questa roba deve arrivare deve essere già inculcata nella preparazione estiva essere deficitari a settembre essere arrugginita diciamo così a ottobre iniziare ad essere efficace a novembre da dicembre in poi devi ingranare ai 100 all'ora questa cosa deve entrarti in testa se inizi un pochino a ragionarci il 24 di aprile non puoi poi stupirti se contro la squadra che sta numerando il campionato gli episodi poi le perdi queste cose qui che poi banalmente poi è giusto e credo che sia stato possibile tenere in piedi questa partita combattuta fino all'ultimo proprio perché comunque la Juventus ha una rosa all'altezza una rosa molto forte quindi il valore individuale dei calciatori ha aiutato anche di fronte a una mancanza di lavoro che c'è stato durante l'anno e che non abbiamo mai nascosto però secondo me Allegri e come spiegavo nel video post partita la partita la preparata bene e vi metterò anche un pezzettino di video di live che è stato a fine primo tempo una sorta di analisi tattica di quella che è stata la lettura dell'allenatore anche con dei giocatori che sono stati iscrivati al primo minuto che non vedevano il campo da tanto tempo 6 a Scesni io ho letto un pochino di critiche a Scesni per il gol subito che gli passa in mezzo alle gambe sì è vero però ragazzi Raspadori tira dall'indisturbato perché Quadrado non esiste anche Allegri stesso ad Azzon ha sottolineato questa cosa ha detto abbiamo preso un gol da Polli perché comunque ci mancava il marcatore a destra è vero Scesni prende gol sotto le gambe però Raspadori tira indisturbato sul secondo palo è l'incubo della difesa il secondo palo libero è del sogno dell'attaccante ritrovarsi il secondo palo libero a maggior ragione un giocatore bravo come Raspadori con una coordinazione veramente fuori dal comune in grado di impattare di calciare ottimamente con entrambi i piedi che sia al destro col sinistro indistintamente fatto un bel gol Raspadori Scesni si l'ha presa in mezzo le gambe però Raspadori che tira così indisturbato così libero dispiace un pochettino devo dire la verità dispiace perché sono quegli episodi di campo che le partite purtroppo te le invertono 6 a Danilo secondo me non si può dare più di 6 perché non è stata una brutta prestazione ma io inizio a vedere un Danilo veramente stanco questa cosa mi preoccupa Danilo sono convinto ma spero di sbagliarmi che nelle prossime 2-3-4 partite inizierà a calare di livello tanto come è calato Fagioli come è calato Kostic come è calato Rabiot ma soprattutto come è calato Kostic perché Danilo e Kostic insieme a Rabiot sono stati proprio i giocatori più utilizzati in questa stagione non c'è stato praticamente mai turnover per loro anche la partita di riposo che si è preso con la Lazio è stato costretto a entrare lo stesso quindi Danilo non può riposarsi e inizio a vederlo stanco in alcune cose che inizio anno o comunque in mezzo all'anno non mi sbagliava e adesso ci sono delle letture che anche l'altra sera con lo Sporting non mi avevano convinto e anche stasera con il Napoli mi hanno fatto dire ma come siamo messi sta bene non sta bene tanta fatica tanta fatica perché i minuti giocati da Danilo sono quasi infiniti il giocatore più utilizzato della Rosa della Juventus in questa stagione se è mezzo Rugani estratto vivo dalla Naftalina non so dire il tempo in cui non si vedeva Rugani ho giocato una buona partita ho giocato veramente una buona partita ero terrorizzato da immaginarmi Rugani contro Osiman nel prepartita quando ho visto le formazioni ufficiali già quando nel pomeriggio iniziavano a circolare le ipotetiche formazioni post rifiniture dicevo ma è una difesa 3 Rugani contro Osiman in realtà era una difesa 4 in cui Rugani spesso e volentieri andava a prendersi Osiman uomo su uomo e Gatti andava invece a coprire la profondità in modo da avere questa sorta di superiorità numerica nei confronti di un attaccante che necessitava probabilmente di un uomo in più in marcatura per non essere uomo su uomo semplicemente contro il capo canone del campionato uno degli attaccanti più in forma di questa stagione quindi buona credo che sia stata una buona partita da parte di Rugani che ha letto tante palle ed è andato anche a prendere tanti interventi di testa quindi bene bene Daniele ero molto più preoccupato invece ho fatto veramente una partita attenta 6 e mezzo a Gatti qua iniziamo con alcune riflessioni perché per me la partita di Gatti è anche da 7 per me la partita di Gatti è pure da 7 pieno pieno ma anima anche cioè proprio si vedeva che aveva voglia che voleva trascinare gli altri e andava a spronare parlava con Miretti con Danilo si proiettava in attacco nel finale anima anima a Gatti di questa partita anima però questa partita ha rischiato di non finirla per quel colpo su Kvara-Scheia che se vanno al VAR ti prendi il rosso e basta mi fa ridere perché nell'altro video ho detto praticamente la stessa cosa è arrivato il fenomeno nei commenti che dice eh perché Toselli non ne parli di Gatti su Kvara cosa che avevo tra l'altro già detto la torno a dire perché qualcuno sicuramente sarà poco attento però Gatti ha fatto una signora partita che poteva essere rovinata da quell'intervento lì e aggiungo una cosa che non so se l'avete notata io non l'avevo sottolineata perché poi ho visto che non era mai stata detta ma io dallo stadio domenica scorsa ho visto fare praticamente la stessa cosa Gatti sempre con un pugno mi pare sulla orientè del Sassuolo questa cosa poi me la sono semplicemente scordata ho visto che non è girata quindi non sono nemmeno andato a recuperarmela non vorrei che fosse un qualcosa che Gatti ha distintivo e che lo porta ad essere recidivo quindi speriamo che finisca qui è andata bene con Kvara se è successa anche con l'orientè è andata bene anche con l'orientè adesso basta Fede attacchiamo il cervello perché è necessario se si gioca nella Juventus però è una partita veramente molto molto bella da parte di Gatti giocatore che ha fatto una crescita mostruosa 6 e mezzo Quadrado anche qua secondo me Quadrado ha fatto una partita che è da 7 anche la sua partita di Quadrado secondo me stasera è stata meravigliosa tanta proiezione offensiva da terzino destro in fase di non possesso a esterno nel 3-4-2-1 in fase offensiva veramente un polmone in più rispetto a tutti quegli altri però non si può prendere un gol del genere perché si fa una simulazione vergognosa là in fondo in epoca di VAR beh io capisco che che il giocatore debba avere la volontà di cadere normale cioè è normale che il giocatore provi a guadagnarsi un vantaggio è normalissimo però è una roba talmente tanto palese che non sia fallo che devi semplicemente tirarti su e tornare in posizione a difendere dato che problemi di fiato Quadrado non ne ha e purtroppo questo episodio ci costa la partita perché è un errore che uno con l'esperienza di Quadrado purtroppo non può commettere e va a rovinare una prestazione molto molto buona perché stasera Quadrado mi era mi era piaciuto molto invece questa cosa deve per forza di cosa abbassare il voto perché purtroppo la partita la perdi così voto 7 Locatelli secondo me migliore in campo la partita è stata meravigliosa giocatore che davanti alla difesa svolge il compito del mediano in maniera impeccabile era calato tantissimo nelle ultime partite ed era calata pure la Juve infatti ripeto a me la Juve stasera è piaciuta poi non sono qui a dirvi che ha fatto la partita migliore del mondo e che deve diventare uno standard però rispetto a tante volte ho visto una Juve che era più ordinata in campo che aveva idea di cosa dover fare e sicuramente tanto cuore e credo che il cuore Locatelli non si possa assolutamente negare quindi bene secondo me migliore in campo è Manuel Locatelli ennesima prestazione secondo me di alto livello in questa stagione punto 6 Rabiot che invece qua non la miglior prestazione di Rabiot anche l'altra sera nonostante il gol poi quella disattenzione sul rigore però anche Rabiot mi sembra molto stanco siccome Rabiot è molto stanco questo le ha giocate praticamente tutte difficile che stia fuori per infortunio si è fatto un mondiale in mezzo da titolare è arrivato in finale è tornato ancora titolare 11 gol in stagione questo sta facendo una stagione infinita e ci credo che a un certo punto inizi ad essere un pelino più stanco però la fisicità ce la mette inizia a mettere su anche una visione di gioco importante che non gli avevo visto fare in precedenza in questi anni i bianconeri giocatore che sta diventando davvero fondamentale vedremo se alla fine rinnoverà oppure se troverà una nuova squadra pronta a raccogliere a parametro zero per la Juventus sarebbe una perdita veramente eccessiva nonostante questa partita semplicemente era a 6 ma ripeto sta giocando a tutte sta facendo una stagione straordinaria 8-6 e mezzo a Miretti mi è piaciuto mi è piaciuto anche perché Allegri lo mette lì per limitare Lobotka e toglie tanto tanto al Napoli nonostante la partita del Napoli da quel punto di vista sia stata comunque straripante figuriamoci con un Lobotka lasciato libero con Miretti che sta ritrovando secondo me quella leggerezza nelle giocate che aveva inizio stagione che gli è mancata nel mezzo perché secondo me ha sentito tanto la bocciatura siccome ha sentito veramente tanto la bocciatura Miretti post Benfica infatti le partite che faceva dopo dove aveva perso il posto da titolare sembrava completamente un altro giocatore forse sta ritrovando quella leggerezza che aveva inizio anno e che aveva nel finale dell'anno scorso sarebbe fondamentale ritrovare anche Mire da quel punto di vista lì 8-5 a Kostic secondo me il peggiore in campo della Juventus vale il discorso di Danilo vale il discorso di Rabiot è stanco deve recuperare energie le sta giocando tutte però Kostic è forse quello che più di tutti ti dava produzione offensiva perché i suoi cross arrivati sulla tre quarti arrivati sul fondo erano quelli che facevano veramente la differenza per la Juventus in zona gol e io aggiungo in una squadra che gioca sempre con l'attaccante spalla alla porta e quindi difficilmente fa delle incursioni centrali difficilmente gioca per il centrocampo difficilmente gioca in verticale sulla punta ma che sfrutta molto gli esterni soprattutto quello a sinistra anche se sta ritrovando anche Quadrado nelle ultimissime partite sembra un semaforo verde-giallo-rosso verde-giallo-rosso se si inceppa Kostic ed è dieci partite che non segna gli attaccanti secondo me c'è una correlazione perché il gioco della Juve sviluppa proprio sull'esterno il gioco della Juve sviluppa proprio a maggior ragione sul mancino di Kostic e se Kostic inizia a mancare la davanti meno gol vengono segnati è una coincidenza? per me assolutamente no voto 6-5 su Le fatto una bellissima partita anche Matti Sule che parte da esterno-destro in fase di non possesso nel 4-4-2 4-4-1-1 e invece stringe stringe per liberare Quadrado la sovrapposizione di Quadrado dare ampiezza all'esterno-destro in fase di possesso andandosi a posizionare dietro Milik partita di sacrificio la sua perché Allegri ha chiesto tantissimo sacrificio soprattutto in fase di non possesso cercando di andare a raddoppiare su Kvara perché Quadrado comunque uno sì che ormai ha affrontato chiunque in carriera però inizia a mancargli il passo Kvara ha la dinamita nei polpacci e nelle gambe quindi serviva sicuramente un raddoppio e secondo me Sule ha fatto un'ottima partita poi è costretto uscire per infortunio credo è un problemino muscolare spero mi auguro immagino niente di che però una buonissima partita di Matti Sule che poi ha quei due tre colpi con le due tre palle liftate ha fatto passare dei palloni all'interno dei pertugi di spifferi che non si sa come quindi sicuramente la stoffa ce l'ha voto 6 a Milik si mangia un gol clamoroso clamoroso mi ha fatto saltare dalla sedia quando là in fondo il Napoli iniziando dal basso fa quell'errore giocando appunto la palla su per vie centrali ripartenza dal basso tra Milik e Fagioli che non si intendono e poi Milik tira quella ciabattata però a livello di andare a cucire il gioco in zona di rifinitura Milik è troppo più adatto rispetto a Vlaovic per giocare in questa Juve e credo che stasera si sia visto un po' un po' non tanto ma un pelo più di ordine lì davanti proprio perché Milik ha una gestione differente dispiace tanto per Vlaovic perché ha altre caratteristiche banalmente e quando si dice ecco vedi la partita è diversa perché non c'era Vlaovic non si fa l'analisi giusta perché è quello che vi dicevo prima l'attaccante gioca spalla la porta si sviluppa molto sugli esterni unicamente sugli esterni questo è il modo che ha la Juventus di fare male e se poi sugli esterni non arrivano i palloni e gli attaccanti sono magari anche in un momento di sfiducia è per quello che ieri vi dicevo quando Allegri parlava di sfortuna no non è sfortuna è che la Juventus in questo momento non è in grado di rifornire le palle giuste agli attaccanti che ha per le caratteristiche e andare a sfruttare le caratteristiche degli attaccanti speriamo che questa cosa migliori ma arrivati alla fine della stagione secondo me è francamente una speranza e nulla più molto molto complicato che accada voto 5 a Chiesa entrato è stato molto disordinato molto molto disordinato non è riuscito a creare quella superiorità che riesce a fare l'unica giocata davvero bella è stata quella in velocità sulla sinistra dove salta mi pare di Lorenzo e mette il pallone dentro proprio per Blauic appena entrato e facciamo gol peccato che quella palla fosse uscita di qualche millimetro o forse di un centimetro non lo so in diretta non ero riuscito a esultare proprio per quella roba lì poi sul replay forse mi era sembrata addirittura più dentro rispetto alla sensazione iniziale peccato però sicuramente Chiesa non ha cambiato la partita come ci si poteva attendere e l'altro cambio è stato di Maria che non aveva sbagliato aveva buttato dentro quel pallone in quella ripartenza proprio nata dal discorso di Milik così lui non aveva sbagliato in quell'occasione lì quindi fosse stato regolare quel gol ovviamente non sarebbe stato 5 e mezzo però da Di Maria mi aspettavo qualcosina di più all'interno della partita cioè mi aspettavo che davvero riuscisse a prendersi in mano la Juventus e ad accenderla con delle giocate che erano necessarie giunti a quel punto di equilibrio massimo a pochi minuti alla fine invece l'ingresso di Chiesa di Di Maria è stato anche il momento in cui il Napoli è stato a giocare non perché come ho sentito da Zon la Juventus si sia scoperta con Chiesa di Maria credo che questa sia semplicemente una lettura errata della partita ma perché il Napoli ha acceso il motore è stato un diesel e la Juventus si era ormai accontentata e abituata a quelle che erano alle distanze di prima e ha fatto fatica a fare questo switch infatti la Juventus dal 65esimo 70esimo 75esimo in poi ha iniziato a subire tantissimo subire tantissimo il Napoli arrivava spesso volentieri alla conclusione ma ripeto non perché sono entrati i Chiesa di Maria ma perché il Napoli ha iniziato ad alzare i ritmi i giri del motore 5 e mezza a Fagioli è entrato ha preso una munizione era entrato per restare sullo vodka poi Allegri l'ha girato perché non lo vedeva girare bene intorno appunto a quel giocatore secondo me anche qua stesso discorso di Di Maria da Fagioli mi aspettavo più qualità più pulizia e forse anche la giocata ora per me è errato bocciare Fagioli cioè il fatto che Fagioli non mi parta a titolare né con lo Sport né con il Napoli per me non è giusto non condivido minimamente la scelta dell'allenatore perché ammassi il calciatore lo ammassi psicologicamente l'abbiamo visto dicevamo prima con Miretti un errore in panchina che non venga fatto questo errore con Fagioli perché poi come stiamo vedendo adesso Vlaovic che si becca senza voto perché è entrato a un minuto dalla fine quindi fa gol ma abbiamo già detto prima la palla è uscita come in questo momento abbiamo Vlaovic nell'occhio del ciclone negativo momento negativo di instabilità psicologica dal punto di vista sportivo ovviamente non voglio che ci entri pure Fagioli perché è stata una scoperta meravigliosa ed è un giocatore che ha delle caratteristiche che alla Juventus comunque servono e come vedremo se ora la Juventus si andrà a sviluppare verso questo 4-4-1-1 con due esterni se tornerà al 3-5-2 quanti saranno i centrocampisti tradotto se saranno due oppure tre secondo me in questo momento Allegri sta iniziando a giocare con la formazione 3-4-3 o 4-4-1-1 proprio perché toglie un centrocampista quindi può inserire un attaccante in più proprio perché per quanto mi riguarda per quella che è la lettura che sto facendo io al momento per Allegri Fagioli non è più un titolare e spero di sbagliarmi perché questa Juve ha bisogno di Nicolo Fagioli e lo abbiamo visto lo ha dimostrato sul campo ragazzi queste sono state le pagelle fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo oppure no se non siete d'accordo non succede niente argomentate e la discussione è bella così